Beatrice Virgilio, arriva l'estate e puntualmente l'Avis promuove dei progetti che hanno l'obiettivo di incentivare le donazioni. A cosa avete pensato quest'anno? Allora, siccome quest'anno noi prevediamo il periodo estivo sia ancora più critico per noi che negli altri anni, perché abbiamo avuto un calo generalizzato, come in tutta Italia, nel numero delle donazioni, abbiamo pensato di cominciare già da adesso con dei progetti per stimolare i nostri donatori a pensare a fare un'altra donazione anche nel periodo estivo, nel quale magari a causa del caldo o del clima vacanziero si è meno disponibili a fare la donazione. Per stimolare i nostri donatori abbiamo pensato al solito progetto che proponiamo ogni anno, La salute vi è mangiando, che è una convenzione con dei panifici e delle pizzerie del nostro territorio che utilizzano grani antichi piuttosto che prodotti a chilometro zero per abituare i nostri donatori a una sana alimentazione. E quindi chi verrà a donare dal 15 giugno fino al 15 settembre potrà scegliere, se vuole questo progetto, avere un buono da utilizzare per ritirare dei prodotti per una sana alimentazione presso questi esercizi convenzionati. L'altro progetto, che è una novità, è un mare di salute. Noi ci siamo riferiti a un progetto di Avis nazionale perché c'è stato uno studio che ha riscontrato che il mare porta molti benefici alla salute dell'uomo, a parte per alcune patologie in particolare, ma anche per il benessere psicofisico della persona. E quindi abbiamo fatto una convenzione con il Maili e tutti i donatori che aderiranno a questo progetto, sempre nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre, potranno ritirare un buono che darà diritto a passare una giornata presso lo stabilimento, usufruendo dei servizi, quindi sdraio, ombrellone e quant'altro gratuitamente. L'altro progetto è rivolto ai nostri donatori, ma in special modo ai ragazzi, ed è La musica nel sangue dona e porta un amico a donare. consiste nel effettuare una donazione nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 19 di agosto, oppure una sola donazione e un amico che fa l'idoneità e che diventa donatore. In quel caso noi daremo il biglietto gratuito posto in piedi per assistere al concerto di Gianna Nannini. Perché aumenta il bisogno di sangue durante l'estate? Il bisogno di sangue aumenta perché parecchie patologie a causa del caldo si aggravano. Poi ci sono d'estate una serie di incidenti, piuttosto che altre cose che possono accadere in maniera improvvisa, quindi in ospedale c'è una maggiore richiesta. E poi gli ammalati di talassemia, proprio a causa del caldo, hanno necessità, anziché magari di una sola trasfusione, di riceverne due o tre al mese. E quindi per questo aumenta la necessità. Lidia Ciaccio, quella in corso intanto è la settimana del donatore? Sì, questa è la settimana del donatore che si conclude domani il 14. Allora noi abbiamo pensato di omaggiare i donatori che verranno domani a festeggiare con noi, perché è un momento sempre di festa quello della donazione. Gli daremo un ticket che potranno utilizzare per una degustazione la festa che per noi è la Saga del Mare, che sarà nei giorni di fine giugno. Venite, vi aspettiamo!